Il Natale è un incontro di tutta la famiglia dove ci riuniamo e ci ritroviamo per mangiare, per darci gli auguri. Un concetto di valori spirituali e non necessariamente materiali. Mi piace tanto perché il Babbo Natale ci porta tantissimi regali. Finalmente avere un po' di tempo libero dal lavoro, separarsi da tutto e da tutti. Una bella 3D, andare sempre al mare. Mi piacerebbe avere l'iscrizione per una scuola di teatro in America. Bene per la mia famiglia, per i miei nonni. Mantenere la salute di mia madre, che è la cosa più importante che ci è rimasta a 93 anni. Purtroppo mio papà è morto l'anno scorso. Scusate. Forse è che ci troviamo tutti, non lo so. Il bene per me. Penso il benessere di noi figli perché penso che lei vive per noi e questo è importante. Da me vorrebbero più tempo con loro. Ci auguriamo il bene più possibile. La magia del sogno e la realtà della vita come valore sublime. Ho disegnato le mie amici quando mi aiutano a giocare. Capire che cos'è il rispetto e continuare a donarlo per tutta la vita. Capire che cos'è il rispetto e continuare a donarlo per tutta la vita. Capire che cos'è il rispetto e continuare a donarlo per tutta la vita.